Beh tutte, non solo quelle che fai quando stai... Tocco! Beh certo che tutte! Ah ok, allora... Stai basso, non cascare indietro, piuttosto mandi la palla di qua! Non c'è Fabio! C'è Fabio! C'è Fabio! C'è Rie! Guarda che devi correre! Ok? Guarda la palla! Come funziona? Ti giuro che c'è Rie! Si! Carta palla! Alto il braccio! Vieni vieni vieni! Vieni vieni! Vieni vieni! Vieni vieni! Oh dentro eh! 1-3! Un po' di culo! Bravo Simo che ha salvato un po' e non hai perso! Bravo Simon! Tito no! Tito ha fatto il suo! Su un piede solo in piede perno bravo eh! 2-3! Bravo Simo! Bravo Kev! 2-4! salta 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 dritto dritto 4 pari 4 pari dai andiamo ragazzi dai è qui che volevo vai match point il mancino cambio va bene che non ti sei fatto la cacca addosso sulla terza ci deve essere una progressione se mi sbagliate anche la terza impazzivo detto francamente invece non l'hai sbagliata è tutto giusto no dio caro Fabio se però dai le palle già cascate senza che caschino non ha senso giocare a beach volley eh c'è il badminton c'è per quello ti hai detto una cazzata non l'ascoltare calvi calvi direttamente quello che ha detto lui è giusto fine sai che io sono la voce di dio sceso in terra sempre si prende anzi dio è il mio secondo che dio non ce la fa tenere suo figlio quindi francesconi uno dio zero vola vaffo bravo tranquillo però attacca comunque uno due io devo ancora capire che tutti mi dicono i punti secondo come la pete uno chi è? allora io ascolto solo mazzone adesso un po' divento scemo diventato la cosa più sbagliata da dire a un giocatore che ha nessun grado tecnico di attacco eh spacca è ovvio che colpisce il primo quadretto eh appunto infatti l'ho visto meno male che non uscite perché a quel punto eh appunto infatti l'ho visto la musica va a cattacca la musica va a cattacca cattacca tipo no 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 dai 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 ci macomma io ne metto socialità quattro pari Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.